Ok, stiamo adesso per distribuire questi codici promozionali direttamente offerti da Xcover.it Abbiamo una fila lunga, fa vedere la fila? Lunga abbastanza, siamo più o meno 160 e stiamo aspettando l'apertura del centro commerciale. Adesso distribuiamo i codici. Ragazzi, codici promozionali, codici promozionali dove è che ci si raccomprine, codici promozionali, codici promozionali, controllo mi piace Grazie. 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 Non lo so. Ma che sta cosa è malato? Eh, non mi arriva a 12 e mi ha andato a andare male. Ma... Ma... Quanti minuti stai di ripresa? 2.40. Quanto faccio? Quanto deve fare? Io saluto tanto. Ciao, sono sempre quella di prima. Noi siamo qui, sono tipo i 6 di mattina, siamo un po' morti, quello non mi vuole dal cuscino. E io voglio protestare questa cosa, mi sta pure a checker flash. Però io comunque protesto questa cosa, bella la maglietta, la voglio pure io. E... Era un levatela e dammela. E quindi, vabbè, niente, mo spero che ci portano i cornetti e i ciambelle, anzi. Ecco. Mo devo andare a cercare di via. Finito Camillo? Camillo! Ma veramente, perché è un po' mortale? Mettici una buona parola e fammelo da me. E diglielo un po' e fammelo dare. Mettici una buona parola, amici! No, faccio un po' per il video. Grazie. Ciao, tanti, non tu sei stronzo. No, c'è qui. Sì, stai facendo. Poi mancare di gober. De gober porriva, dai. Stop.